Ben trovate e ben trovati. Microscopia ottica multimessaggera, aspettatevi l'inatteso oggi. Aspettatevi l'inatteso. L'inatteso che i vostri occhi non riescono a vedere direttamente. Eppure, questi due personaggi, Richard Feynman, un fisico, laureato Nobel, e Yogi Berra, giocatore di baseball, avevano la stessa idea. Puoi osservare un sacco guardando. Perché? Feynman perché sosteneva che osservare quello che succede in una piccola scala, lui che ha fatto nascere le nanotecnologie e la scala degli atomi, fosse utile per capire come funzioniamo. Fosse utile per capire come fare delle cose che potevano e che possono migliorarci la qualità della vita. Yogi Berra, invece, era un giocatore di baseball, uno di quelli che devono intercettare con massa la palla lanciata da un altro. E allora, con il suo osservare i piccoli movimenti dell'altro, gli permette di essere il campione che è stato. Ecco, gli occhi, la luce dell'arcobaleno e un pezzo di vetro. Questi sono i nostri ingredienti. E osservare cosa? Beh, quello che noi vorremmo osservare in realtà sono le cellule, centomila miliardi di cellule che stanno in 76 organi, che sono quelli che ci portiamo addosso. E vogliamo osservarle mentre vivono. Per questo usiamo la luce del sole sotto la quale stiamo comodamente tutta la giornata. E per osservarlo, che siano gli occhioni di un robot o degli strumenti sofisticati, beh, per osservarlo usiamo la luce. Non sono due occhi quelli che vi sono comparsi ora, sono occhi neri. Questo è video che riguarda l'astrofisica. Perché? Perché questa idea della microscopia multimessaggera viene dall'astrofisica. Saper cogliere tutti i messaggi disponibili per poter costruire la nostra conoscenza. Accidenti, l'inatteso, uno starnuto. Quello starnuto che in quelle palline porta qualche cosa che in effetti, in questo periodo, sta dando dei problemi, un virus. Ma proviamo a capire se riuscirlo in dettaglio. Qualcosa che affila le proprie armi per poter entrare nel vivente e cambiargli, sconvolgergli il modo in cui funziona. Queste palline che entrano portano dell'informazione e questa informazione non è esattamente l'informazione che il vivente è abituato a trattare per vivere bene. È un'informazione, diciamo, che lo porta a vivere in modo sbagliato, che porta un danno, porta una malattia. Quegli oggetti che vedete sono frammenti di RNA o di DNA che entrano attraverso delle porticine che sono i pori nucleari. Eccoli. E poi una volta lì dentro, il traffico tra dentro e fuori è quello che definirà le funzioni cellulari. Fantastico. Che le cose funzionino bene o funzionino male, ci piacerebbe capirle. E ognuna delle nostre cellule porta al suo interno due metri di DNA. Ma ognuna delle nostre cellule è grande, circa un milionesimo di metro, eppure lì dentro stanno due metri di DNA. Ma come? Ma stanno avvolti, un po' come nei rocchetti di una macchina da cucire. Magari quella che avete visto usare a una nonna o ai vostri stessi familiari. E l'informazione del DNA, quella colorata, sta avvolta all'intorno, si compatta tantissimo, sta dentro le vostre cellule. E quando è il caso, queste informazioni vengono rilasciate e le cellule fanno quello che devono fare. Quelle zone rosse e quelle zone blu che vedete in questa immagine, sono il modo in cui il DNA si dispone dentro ognuno dei nostri nuclei. E l'inatteso? Beh, non so se avete visto, o letto questo libro, o visto questo film, Il curioso caso di Benjamin Button. Il film è di per sé un falso da un punto di vista scientifico, nel senso che non c'era nessun ringiovanimento in questa patologia. Certo, serviva per far entrare nel cast degli attori Brad Pitt, ma l'inatteso viene dal fatto che i bambini che nascono vecchi hanno dei nuclei che anziché essere rotondeggianti, lo vedete lì a destra, sono un po' accartocciati, sono come direbbe un vecchio scrittore napoletano, un po' sgarruppati. E allora quel loro accartocciamento fa sì che quando il rocchetto cerca di aprirsi per rilasciare le informazioni, rilascia informazioni sbagliate. Allora ci servono degli strumenti per poter andare a vedere quello che succede, degli strumenti che ci permettono di penetrare nel vivente, di portare la luce nel vivente attraverso un pezzo di vetro e da quel pezzo di vetro raccoglierla per costruire la nostra conoscenza. Forse avete sentito parlare della microscopia elettronica, perché effettivamente la microscopia elettronica è stata ed è utilissima per andare a vedere i componenti biologici e non solo, ad una scala molto fine, una scala di qualche decina di atomo, una scala che è quella delle proteine, del DNA, che hanno dimensioni dell'ordine del miliardesimo di metro due, cinque nanometri. E io so che siete gentili ed educati e so che se vi chiedessi di farvi solidificare, fettare, metallizzare, bombardare di elettroni, lo fareste e così io potrei fare microscopia elettronica su di voi. Però non sarei contento, non sarei contento perché non riuscirei a seguire nel tempo quello che succede. Col microscopio ottico sì, però c'è un problema. Il microscopio ottico del quale stiamo parlando è un microscopio che usa la luce visibile del sole. E la luce del sole, la luce visibile, non è una radiazione che viene assorbita dalle nostre molecole, se lo fosse. Quindi se noi assorbissimo la radiazione solare, la nostra temperatura si innalzerebbe e bruceremmo. Questo non succede, direi anche per esperienza diretta, anche senza averlo studiato. E allora come fare a vedere qualcosa che è trasparente? Beh, basta colorarlo un po', colorare le cose che ci interessa mettere in risalto. E per farlo usiamo delle molecole che conoscete di fatto, sono le molecole fluorescenti, sono delle molecole che emettono luce, se illuminate da luce, della luce brillante. E allora con quelle molecole che emettono luce brillante, quello che possiamo fare è colorare le singole proteine, il DNA dentro alle cellule e andare a vedere che cosa fanno nel tempo. La fluorescenza è quella che è venuta in aiuto a Michelangelo, a sua insaputa, per rendere il manto di quella vergine alla Cappella Sistina così interessante, così brillante, un manto che cattura subito la vostra vista con quel suo azzurro. Perché? Perché quel suo azzurro non è fatto di pigmenti come sono fatti gli altri colori, che rilasciano solo quella luce riflessa che vi permette di vedere questo capolavoro. Quel manto è fatto di un pigmento che oltre a restituire la luce all'osservatore, come tutti gli altri pigmenti, ne produce di sua, la rende brillante, come vedete in quel riquadro a sinistra, dove tutti gli altri colori non emettono luce, tranne quel manto azzurro. Ecco, a richiamare l'attenzione, l'attenzione su un particolare. E il vivente di per sé è in grado di emettere luce, luminescenza. Potete pensare a tantissimi esempi nel vivente che sono in grado di emettere radiazione luminosa. Pensate alle lucciole, pensate alle meduse nelle profondità del mare. Quelle stesse meduse che hanno permesso ai signori Chalfi, Chen, Shimomura di realizzare e di capire come erano fatte delle molecole fluorescenti, delle proteine. Questi signori presero il Nobel nel 2008 per questa scoperta. E con queste proteine a marcare il vivente è possibile vedere il vivente come funziona. quel dettaglio che sarebbe trasparente alla luce del sole. Vuol dire che se rendiamo colorati i neuroni del nostro cervello, possiamo pensare di fare un viaggio dentro al cervello dove i colori non stanno lì solo per un senso estetico. I colori stanno lì a dirci quali sono le mutue relazioni tra quei neuroni, come quelli comunicano e se noi funzioniamo bene o male. Insomma, quel pezzo di vetro fa da temperino per la luce dell'arcobaleno e con quel temperino affiniamo il nostro pennello e la nostra matita per essere dei pittori puntinisti che sono sempre più precisi nella rappresentazione della realtà che sta lì intorno. Sì, siamo dei pittori puntinisti. Osserviamo la realtà e punto per punto la andiamo a mettere in un'immagine, su uno schermo, per capire quello che succede. Ma questo, pensate, possiamo farlo non solo nello spazio di un dipinto bidimensionale, X e Y. Lo possiamo anche fare per la terza dimensione e nel tempo, proprio perché usiamo la luce. Quello che vedete qui è un filmino, una vista laterale di palline di gel fluorescente che vanno a finire su una superficie che possiamo zoomare con il nostro temperino ed osservare a un dettaglio più fine, con la luce e un pezzo di vetro. Ora, se al posto di questo pezzo di vetro noi mettiamo qualche cosa che gli assomiglia, cioè del liquido, come quello che vedete in quel piccolo contenitore giallo, quella gocciolina, e a quella gocciolina somministriamo della musica non udibile, quindi ad altissima frequenza, la gocciolina, le molecole in realtà, si mettono come a danzare, cambiano le loro proprietà, cioè spostano il fuoco della nostra lente a tempo di musica. Una musica non udibile è 140 kHz, 140.000 volte al secondo. E questo ci permette, se vogliamo seguire delle traiettorie nel vivente, di essere non solo veloci, come qui vedete, ma velocissimi. Quindi di andare a seguire con questa musica e pezzo di vetro, con dietro del liquido, quello che avviene nello spazio e nel tempo. Nello spazio. Ecco, nello spazio, quello che noi abbiamo a disposizione, in realtà, è uno strumento che ci permette di ottenere un dettaglio finissimo, potremmo dire illimitato. È come avere a nostra disposizione una radiolina che ci permette di cogliere il dettaglio, girando la sintonia, la stazione che ci serve per rispondere al quesito che abbiamo in mente. Sì, giriamo una rotellina e il nostro dettaglio diventa sempre più fine. Cioè, possiamo navigare dentro ad ognuna di quelle cellule, delle nostre cellule, e osservare finemente quello che succede. Vi ricordate quel poro che abbiamo visto all'inizio con quel virus, quel DNA, che scambiano le informazioni? Bene, quel poro nucleare, quella finestra d'entrata e d'uscita delle nostre cellule del miliardesimo, diciamo, di metro in termini di proteine e DNA e del milionesimo di metro in termini di involucro, lo vedevamo così, ma oggi lo vediamo così. Vediamo quella porta, così come è fatta, con le sue proteine rosse che la costituiscono e la sua finestra di entrata e di uscita. Lo vediamo così grazie alla super risoluzione, alla super vista. Superman, Wonder Woman, siamo questo quando abbiamo quel pezzo di vetro e la luce dell'arcobaleno. E il termine super risoluzione, così come il termine microscopia, è un termine che nasce dedicato al microscopio di Galileo Galilei. Il termine super risoluzione nasce dall'ingegno di un fisico italiano, Giuliano Torraldo di Francia, che negli anni, verso la fine degli anni 40, dice, signori, senza violare le leggi della fisica, potete cogliere un dettaglio molto più fine di quello che potete immaginare. veramente aspettatevi lì in atteso. Come? Semplice. Usate i vostri strumenti, usateli al massimo delle loro capacità e aggiungete delle informazioni che vi permettono di costruire un quadro puntinista con un dettaglio che può essere illimitato. Per farlo, Stefan Hell aveva detto molti anni prima che avremmo reso, avremmo sgretolato quel diffraction barrier scrambling, vuol dire la barriera di diffrazione della legge della fisica è sgretolata. Sì, è sgretolata, perché aggiungiamo delle altre informazioni, delle altre abilità per fare diventare quell'immagine che la fisica ci fa vedere un po' confusa per un limite invalicabile, più dettagliata. Possiamo, come nella parte sinistra di questo riquadro riferirci a delle singole molecole che si presentano una per volta e ci permettono di essere localizzate in modo molto fine, oppure possiamo fare una cosa che senza costi aggiuntivi potete fare anche voi adesso per vedere meglio intorno a voi. Mettete un pugno davanti all'occhio, strizzate un po' e poi spostatevi e vedrete la vostra scena in modo più dettagliato. Certo, non possiamo mettere un pugno sotto il microscopio ma possiamo mettere un altro fascio di luce rosso come in questa immagine che rappresenta una specie di ciambella attraverso la quale passa l'informazione che ci interessa e allora se quando prima scrivevamo IIT, Istituto Italiano di Tecnologia col suo acronimo lo vedevamo in modo confuso oggi grazie alla super risoluzione possiamo distinguere benissimo quelle lettere che erano scritte su una scala molto piccola e possiamo addirittura contare ogni singolo componente che componeva quella scrittura certo ma un tumore è grande le cellule si aggregano e noi vorremmo capire di più anche in quel caso le vedete qui questo è uno sferoide tumorale bene per capirlo quello che abbiamo realizzato è stato qualche cosa di particolarmente semplice in fondo abbiamo realizzato una specie di foglio di luce che abbiamo usato per tagliare ma senza tagliarlo fisicamente il nostro campione e dentro ognuno di questi foglietti di luce abbiamo osservato le singole molecole e ci siamo mossi nello spazio tridimensionale di quell'oggetto quella zeta vuol dire che stiamo spostando il fuoco e stiamo spostando ognuna delle quali riusciamo a cogliere un dettaglio molecolare e con la ciambella beh quella ciambella è fantastica quella ciambella è fantastica perché vedete là sopra sta scritto una legge che si chiama legge di Abbe di uguale a lambda diviso 2n sen alfa e poi c'è qualcosa ancora quel qualcosa ancora è legato alla ciambella ma quel lambda diviso 2n sen alfa vuol dire che la distanza minima che possiamo osservare con un microscopio ottico dipende dal colore della luce che in termini di nanometri va da 300 a 700 diviso 2 che è un numero n che è una priorità molecolare della materia che grosso modo vale 1 e quel sen alfa che ricorderete è una funzione trigonometrica che più di 1 non vale quindi metà del colore della luce 200 nanometri ma se aggiungiamo quella ciambella e strizziamo l'informazione allora correggiamo per quel fattore 1 più j diviso j sapo se quel rapporto è grande d diventa piccolissimo vuol dire che possiamo essere illimitati il nostro pennello che era quello blu diventa un pennello verde molto più fine e allora se prima di applicare quel pugno davanti all'occhio vedevamo così semplicemente applicando un secondo fascio di luce vediamo in questo modo e se vogliamo raccogliere l'informazione dentro a una cellula beh basta navigare lì dentro con i due fasci di luce la ciambella e il fascio fluorescente poi la nostra manopolina potrà avere effetto sia nel tempo beh la scala di tempi è piccola dei nanosecondi o delle potenze del secondo fascio di luce e i millivatt abbiamo a disposizione questa manopolina per migliorare il dettaglio che riusciamo a raccogliere ma non si ferma qui la nostra ricerca possiamo dotare il nostro microscopio quello che sta prima e dopo del pezzo di vetro che convoglie e raccoglie la luce di una super vista anziché di un occhio di 25 occhi 25 occhi che vedono più di uno e che ci permettono di realizzare un microscopio nuovo un microscopio illimitato nelle sue capacità questo microscopio è anche il risultato di un ciclo virtuoso che abbiamo realizzato all'Istituto Italiano di Tecnologia siamo partiti dalla ricerca guidata dalla curiosità la ricerca di base per arrivare a degli sviluppi di ricerca applicata abbiamo collaborato con delle aziende e poi abbiamo costituito una piccola azienda una start-up ricca di idee con un piccolo portafoglio Genua Instrument che produce i microscopi del futuro ma nei microscopi del futuro l'avventura non è ancora finita sì perché finora abbiamo usato delle molecole fluorescenti cioè abbiamo messo una marcatura abbiamo iniettato abbiamo fatto produrre qualcosa al nostro organismo per poterlo vedere ma che non sia possibile vedere queste cose senza dover introdurre marcature a questo stiamo lavorando si chiama diffusione della luce quando la luce è manipolata in modi speciali questo ci ha già permesso di capire come si organizza il DNA intorno a quei rocchetti cioè come si organizza la cromatina e ci ha permesso tanti anni fa di distinguere differenti virus per ceppo quindi chissà che questo metodo esente da marcatura non ci possa permettere di dare un contributo sia agli studi in oncologia che agli studi in infettivologia tanto utili oggi ma la mia nipotina Irene mi chiede qual è il futuro della microscopia e io rispondo con queste tre parole che possono sembrare incomprensibili ma la prima dice che il futuro è la microscopia liquida è sintonizzabile sintonizzabile per effetto di quella manopolina liquida perché mischia tutte le nostre unico grande microscopio e poi quello che succede l'altra cosa che può succedere è che noi nel microscopio del futuro inseriamo i metodi esenti da marcatura e poi che usiamo quel segnale di fluorescenza non solo per vedere quel manto della Vergine che sta lì da sempre e che attrae la nostra vista ma per vedere dei piccoli cambiamenti nel tempo di quel segnale che ci permettono di dire tantissime cose su quello che sta succedendo a livello di singole proteine e DNA ecco questa è la microscopia del futuro è costruire un unico grande strumento che contiene tutte le nostre abilità che può ospitare tutti i campioni e tutte le domande relativa al mondo biologico che avete in mente è uno strumento così grande così importante così imponente che produce così tanti dati non può altro che essere immerso nella nostra capacità di usare l'intelligenza artificiale che vedete rappresentata in quei pallini bianchi che sono un percorso di comprensione del dato che arriva e viene trattato e che ci permette di costruire un quadro puntinista particolarmente interessante grazie per la vostra attenzione e spero che vi siate incuriositi sulla microscopia ottica e su quello che possono fare un pezzo di luce e la luce un pezzo di vetro e la luce dell'arcovaleno e se siete incuriositi di questo non dimenticate però di chiedere anche voi verità per Giulio Regeni grazie grazie